salone di parigi 2014 eccola qui la nuova seat ibiza ma ovviamente sto scherzando l'avrete capito sono passati 30 anni da questo modello qui all'attuale ibiza e quindi qua sullo stand seat si festeggia andiamo a vedere anche quella nuova com'è non è completamente nuova ma è una versione speciale appunto trentesimo anniversario che spegne le 30 candeline di questo modello con delle dotazioni particolari come i fari bixeno e a led i cerchi in lega color titanio e sistema infotainment di serie con bluetooth l'interno in generale è più curato ci sono i sedili sportivi con l'investimento misto in alcaltara volante in pelle clima automatico tutto per rendere un po più lussuasetta la piccola spagnola sul posteriore c'è una scritta tsi che vi fa capire che c'è un nuovo motore 1.2 turbo a benzina da 86 cavalli e molti di voi staranno pensando che ora la seat e tedesca appartiene al gruppo volkswagen questi 30 anni è cambiata molto secondo voi come si evolverà la situazione in futuro per questo marchio che deve essere il polo sportivo dei tedeschi commentate fatecelo sapere